www.alice calderrara Sono Alice Calderrara. Ho scelto la Nora 41 anni fa. Era in februari 1983. Mi ricordo ancora tutto, come l'hanno fuori. Il luogo di Faraday, mi chiedeva in intervista, ciò che ho fatto nel mio primo giorno nel laboratorio. Mi ricordo ancora il primo libro. Mi ricordo sempre che volevo lavorare nei laboratori. Quando ero un figlio, fui all'hospital per fare alcuni test. E ero molto impressionante da una buona ragazza, che lavorava nei test di test di hospital. Mi chiedeva di essere come lei. Quindi, quando ero scelta per lavorare nei laboratori, ero sulla monna. Per i primi cinque anni, ero l'unica uomo che lavorava nei laboratori. Mi chiedeva di dire mi chiedeva di dire che sei l'unica uomo da questo luogo all'ultimo all'interno all'interno a quella città. l'unica uomo e l'unica uomo era una buona i ragazzi erano iniziando a dire come diceva e i ragazzi venivano a venire a me per consigliare. Provavelmente mi vanno prima la mia seniorità e poi qualche tipo di capacità per l'immagine che anche nella scienza è essenziale nonostante cosa pensi. Poi, nel 2009, venne l'unica uomo e diventavo l'unica uomo di laboratorio di tecnologie di tecnologie di tecnologie di tecnologie Mi amico e ho sempre amato lavorare e collaborare con le persone Penso che è uno dei importanti di una buona liderazione. In generale le persone riconoscono la mia capacità di sviluppare nuove talenti. Penso che è perché riconosco la contribuzione che ogni dei miei colleghi portano con il loro lavoro. Mi ha detto 40 anni di esperienza che non non ho tutto. Ho bisogno i loro compagni, i loro skills e le capacità. E questo è davvero la differenza di sapere come creare un ambiente romantico quando collaborano e l'esperienza tradizioni e novità complementano l'unico. In questo modo le persone possono crescere. poi, ovviamente, aiutare nel loro viaggio potresti conoscere una visione conoscere i nostri valori, come e come il lavoro individuale contribuisce alla creazione di tutto che facciamo. Quando ho iniziato a lavorare qui ero ero l'unica ero in i lavori non è sembrato ma non più trattato in il lab alcuni dei miei colleghi nel lab erano un po' pregiudici. Quando le chiedi per detali erano in un modo divertente erano per lavorare con le erano in erano un expert su motore ciclo e soccer. Poi ho avuto il numero di collaboratori e sono molto felice. Sono qui per 41 anni e penso che sono la persona con la più seniorità di tutti. che mi dice Alice non ti fai fare il stesso lavoro ogni giorno? 41 anni e non perché il mio lavoro è diverso ogni giorno. certo alcune cose sono costanti ma tutti i progetti sono diversi. Eletrode hanno 1000 applicazioni e tutti sono diversi. quindi il mio lavoro è diverso ogni giorno. Come si può sbagliare quando il lavoro è così? Quando ero più ero stavo nel laboratorio sempre ho avuto molto divertimento fare quello che faccio. NORA offre tutte le strutture che bisogna crescere. È stato veramente cruciale nella mia giornata. Durante i anni ho visto il focus e la gente crescere più e più e diventare molto più tangibili. I nostri effetti sono riconosciuti in strutture tutti i giorni. Siamo valutati e aiutati. I miei colleghi e io abbiamo l'opportunità di essere passati in strutture professionale che customizzate per nostre aspira e potenzione. In i miei anni di lavoro qui a DENORA credo che ho potuto contribuire a dare direzione. una direzione verso tutto che è nuovo. Sì, DENORA è sinonimo della tradizione. Abbiamo appena diventato 101, ma è una tradizione basata sull'innovazione, sull'esercizio. Ho giocato la mia parte. In mia propria parte, ho contribuito con 25 familiari dedicati a alcuni dei prodotti del NORA migliori prodotti del NORA. Sono estremamente orgoglosa di questo. Significa che ho dato qualcosa concreto per l'innovazione. Ma vedo che tutto era possibile perché DENORA ha fatto me in una posizione quando sono imparata a rendere una contribuzione per poter innovare, per descubrire nuove cose. I miei colleghi nominarono e mi votarono per l'esercizio per l'esercizio, per l'esercizio. Ma credo che l'esercizio è un'esercizio per tutti noi, non solo per me. Il mio lavoro senza il lavoro di tutti i miei colleghi, di tutte le funzioni, non sarebbe mai possibile. Quando parlo del mio lavoro, parlo sempre parlo della creatività. È strano per un scientifico, non è? Normalmente la gente immaginando la creatività non è associata con un lavoro come la mia. Uno potrebbe aspettare esercizi e analitiche scientificiche. Ma la magia reale del mio lavoro è precisamente in indulgere la creatività e lasciarela liberare. È vero, le idee devono essere sviluppate ed implementate con rigor e metodo. Ma ogni idea, tutto che è nuovo, tutto che è cambiato di innovazione è il risultato della creatività, di essere capito a immaginare qualcosa di diverso. C'è una frase che le faccio ogni anno quando facciamo un'assessibilità che racconta la vera essenza del nostro lavoro. Questa frase dice regolari chiedendo perché, chiedendo per soluzioni con l'area continuamente migliorare. Questa è l'attitudine. Credo che la creatività e l'optimismo sono la chiave per crescere e raggiungere grandi risultati. Quindi, se fosse dare un consiglio a tutti gli studenti loro più 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 e più 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 Keep asking yourself why, never give up cause you can do it. I'm Denora, we are Denora.